Dall'osso, prego, dell'osso. Grazie, Presidente. Una mia valutazione assolutamente personale. Vorrei ribadire il mio no all'invio di armi ad un Paese che non è nemmeno membro dell'Unità Europea. È una questione di coscienza. Non si fermano le guerre alimentandole. Non si inducono gli attori coinvolti a sedersi in un tavolo spedendo armi né applicando loro sanzioni che poi si ritorcono contro di noi. È una questione di coscienza. Avete per caso visto gli FH-70, le armi pesanti? Io lo sono venuto a sapere perché gli stessi cittadini ucraini li pubblicano sui loro social. Armi che lo Stato italiano ha secretato. Infine, Presidente, mi consenta di fare i complimenti al Presidente del Consiglio? Scusate, scusate. Colleghi, colleghi dell'emiciclo, per favore. Grazie, grazie. Scusi, Presidente, lo volevo guardare negli occhi perché veramente le volevo fare i complimenti per l'OVA che è fatta sul Movimento 5 Stelle e volevo fare i complimenti al Ministro Di Maio per il grandissimo... Grazie, grazie. Concludiamo. Sono così sorite le dichiarazioni di voto.